Per me era la prima volta in cui presentavo un film ai festival in generale, quindi Venezia è stata un'esperienza assurda perché in sostanza è come entrare dentro una giostra che prene mente in movimento, in azione, per cui è stata una toccata e fuga. E la cosa incredibile di Venezia è che a Venezia convivono due mondi, che è un mondo un po' più superficiale che quello del vestito, del carpet, eccetera, e poi c'è il mondo invece dei cuori che sono protesi per osservare e guardare insieme i film. Quindi quello è il mondo che interessava di più a me. Sicuramente l'emozione di vedere tutte quelle teste dentro la sala grande a Venezia è stata fortissima per parte mia e per parte di tutte le sorelle Macaluso. Devo dire che anche la realtà di Salina è una realtà che è molto bella, a maggior ragione perché, come diceva qualcuno, è una realtà che è isolana ma non isolata e soprattutto concentrata. Quindi è bello che si arrivi qui in un'isola, che è in mezzo al mare, in balia dei venti, e si venga qui semplicemente perché si vuole veramente raccontare una storia, no? Ci si raccontano delle storie, un po' come quando si faceva, no? Nelle tribù. Quindi è un senso ancora più profondo e più concentrato, no? Del fare cinema e del raccontarsi storie. Lavorare con delle donne, con un gruppo di donne è stato bellissimo, era la prima volta che mi è successo in teatro, ma era la prima volta che accadeva su un set. E la cosa incredibile è che noi non abbiamo soltanto lavorato sulla sorellanza, sull'essere donne, ma la cosa assurda era che ognuna aveva dei ruoli, che è una cosa un po' tipica del principio femminile, che è un principio liquido, aveva dei ruoli che si interscambiavano fra di loro, cioè a volte eravamo madre dell'altra, a volte eravamo sorella, a volte eravamo figlia, quindi si è creato questo gruppo di donne che era costantemente come se fosse un'enorme creatura mutaforma. Ed è stato bellissimo lavorare specularmente sulla sorellanza e anche sullo stesso ruolo nel tempo, per cui è un film che si muove nello spazio e nel tempo. Scherzosamente con degli amici abbiamo detto che in un certo senso è un po' un film fantascientifico, perché i temi sono quelli che affrontano i film fantascientifici, anche che vediamo noi, i grandissimi film americani, che sono i sentimenti e il tempo. E sono due tematiche che appunto io mi ostino a ripetere sono molto calde per questo 2020, proprio perché siamo stati privati un po' del tempo e delle relazioni a causa della tragedia farsesca che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto. Quindi è stata una bellissima esperienza. Emma è veramente una persona molto in gamba nel creare gruppi e nel tenere unite le persone. Io personalmente ho lavorato specularmente con Simona Malato, che era l'attrice che ha fatto Maria, il mio stesso ruolo da adulta, e abbiamo lavorato su delle sensibilità diverse che però potevano appartenere allo stesso ruolo, alla stessa persona. Quindi si è creato un connubio veramente magico, sia tra le sorelle che appunto tra i personaggi che interpretavano lo stesso ruolo. Per cui è stata un'esperienza incredibile, magica da un certo punto di vista. Io credo che tra teatro e cinema cambi il linguaggio ma non il senso. Quello che sento io a livello percettivo è che io ho cominciato appunto facendo teatro, proprio perché ero una persona molto timida, avevo bisogno di aprirmi. Il teatro è un po' per me, ovviamente non c'è una risposta universale a questa domanda, ma il teatro per me è un po' come se fosse uno slancio atletico. Cioè è un momento in cui tu devi assolutamente protenderti e lanciarti verso il pubblico. La differenza che io percepisco fra teatro e cinema sta nel fatto che il cinema in qualche modo è qualcosa che ti viene a trovare. Quindi ti viene a cercare, ti guarda dentro, ti legge dentro gli occhi. Per cui in ogni caso ti trovi a non dover mentire. Perché cambia semplicemente l'impulso, cioè dall'interno verso l'esterno per quello che riguarda il teatro, a mia sensazione, e dall'esterno verso l'interno per quello che riguarda il cinema. Quindi in qualche modo fare entrambe le cose ritengo che sia una grande fortuna e per questo mi ritengo molto fortunata, perché è una costante esplorazione interplanetaria. E quindi dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno. Ma guarda, il mio impatto con l'isola è stato incredibile perché per vari motivi quest'anno a me e il mio compagno ci inseguiva il film del Postino. E io peraltro non sapevo che il film del Postino è stato girato parzialmente qui. Quindi eravamo stati prima a Procide e ci siamo ritrovati a Salina. Era una realtà quella del DocFest che io non conoscevo assolutamente. Ne avevo sempre sentito parlare, però dicevo chissà un festival dentro un'isola. La cosa incredibile è che siamo arrivati qui e siamo rimasti folgorati. Io sono rimasta veramente folgorata dal mio arrivo qui. Nel momento in cui metti i piedi sull'isola senti che c'è una prepotenza meravigliosa della natura. Prepotenza che in questi giorni si è ampiamente manifestata perché abbiamo beccato appunto la mareggiata che ci ha tenuti bloccati qui. E in un certo senso era qualcosa che i nostri cuori speravano per assurdo. Perché ci chiedevamo chissà com'è la vera natura dell'isola. Perché ovviamente è un'isola che è anche turistica, che si muove, che è frenetica. Ma questa è l'isola verde. È un'isola in cui Eolo domina su tutto. Quindi ci chiediamo chissà qual è la vera natura nel momento in cui si manifesta. Per cui sono rimasta folgorata dall'isola e anche dalla realtà del DocFest. Che è una realtà che non è prepotente come quella di altri festival che si vogliono imporre sul territorio. È una realtà che è dentro il territorio, è compenetrata nel territorio e che rispetta assolutamente l'essere isole nelle isole, come dice Pirandello. Per cui, che per me è un valore meraviglioso perché ogni uomo, lui dice ogni siciliano, ma io mi sento dire ogni uomo è un'isola nell'isola. E la realtà del DocFest è la realtà di un'isola nell'isola. Come dice lo slogan, isolani sì, isolati no. E capisco perfettamente che cosa vuole dire. Essere isole nelle isole significa essere assolutamente compenetrati nel territorio. Questa è una peculiarità che il DocFest ha e che mi è parso di poter esaggiare anche in questi giorni in cui siamo rimasti bloccati qui come dei naufraghi. E quindi mi sento molto fortunata di questi giorni passati qui. Grazie.